Non ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? E' bellissimo. Ah, vediamo il maniere. C'è il bizzarro e vediamo come mi fanno. Perché non è che mi aiutano, senza fare gli ingegneri. Che faccio io presidente? Io prendo cos'è? Eh? Come? Dico no. Stiamo parlando in più ore e si può sapere tu chi ne sei? Uomo chi ne sei? Chi ne sei tu? Io sono l'annunziatore ufficiale del paradiso. Di segno di Gabriele. Ehi? 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 Puoi ripetere? Scusa, non hai capito chi ne sei. Mi dispiace. Forse ero dietro, capito? Io sono... Di segno di Gabriele. Ehi? 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 Senta, ho un po' di torna bello bello perché se no, non devi nulla. Inferiente ci faccio parlare per sempre. Eh? Sei l'arcangelo Gabriele. No, 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 no. Non sei l'arcangelo. No! pensavo che era l'arcangelo, almeno avevano significato. C'è gente, eh, giustamente. Cioè Dio ti chiede una cosa che dica che c'è gente già, dici. E Dio è buono e misericordioso. E' buono e misericordioso. Casi non me lo dici, no? Fra poco l'altro ti spiace come uno scartacchio, se non era, hai capito? Dio di se non era, Dio. Va bene, allora. D'Adangelo Gabriele! D'Adangelo Gabriele? Si. Si. Ma chi è su D'Adangelo? Che vuoi dire? Che significa? Perché io mi piace assai a D'Adangelo. Ma D'Adangelo ti piace assai? E' bellissimo, bellissimo. Ma chi è? Ma chi è? Ma D'Adangelo? E' buono e chi ne è? E' la moglieri Cicci d'Alessio. Cicci d'Alessio. E' Cicci d'Alessio non lo dite prima. Cicci d'Alessio. E' Cicci d'Alessio, venga. Chi è Cicci d'Alessio? Ma chi ne è Cicci d'Alessio? E' un po' che abbiamo fatto in settimana! E' chi non va a diventare ad agosto, no! E' usano tutti! E' usano tutti, si! E' usano tutti, si! E' usano tutti! E' usano tutti! E' usano tutti!